Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Il weekend scorso la pungente opinionista dell'Isola dei Famosi 2023, Vladimir Luxuria, ha festeggiato il compleanno dell'iconica, quanto storica discoteca romana Mucassassina Parti sgargiante, scatenato, al quale ha partecipato pure Ilari Blasi, che ha colto l'occasione per presentare all'amica il tanto ormai super chiacchierato e inseguito Bastian Muller Notata danzante e piena di interessanti incontri per la conduttrice e la opinionista dell'Isola dei Famosi 2023, che si sono scatenate sulla pista fino a tarda notte Diverse le storie social che hanno divertito la platea virtuale Adesso Vladimir Luxuria ha espresso il suo parere Bastian Muller, fidanzato di Ilari Blasi Ilari Blasi e il nuovo fidanzato Bastian, parla Vladimir Luxuria Non solo per lavoro, l'ex parlamentare e l'ex moglie di Francesco Totti vanno d'amore di d'accordo anche al di fuori degli studi televisivi Mediaset Vladimir Luxuria, icona indiscussa del gettonato evento, che ha consacrato i 40 anni di vita dell'intramontabile nightclub, mentre sfoggiava una super chioma arancio ed un abito da geisha, ha conosciuto e chiacchierato con uno degli uomini più chiacchierati del momento La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2023 indossava una sensuale tuta grigia, che sembrava più che altro una seconda pelle, era raggiante accanto al suo nuovo fidanzato e la collega non ha potuto chiamare la coppia Col simpaticissimo Bastian Muller ho avuto modo di conoscere una persona affabile, semplice, ha scritto sotto una foto coi due Un evento raro, considerando la discrezione dell'imprenditore tedesco Pazzeschi, che trio, altro che coppia fake, sono sempre insieme, simpatico, oltre che bello, online Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video